Nonostante un nuovo corso all'interno dell'associazione antiracket locale, mancano però i presupposti per l'annullamento del provvedimento che ne determinò la cancellazione dall'albo provinciale tenuto alla prefettura di Caltanissetta. I giudici del Tar Palermo hanno confermato quanto già deciso in fase di sospensiva che venne respinta. L'associazione antiracket, adesso presieduta da Salvino Legname, rimane fuori dall'albo ufficiale della prefettura. Il ricorso è stato respinto tutto inizio due anni fa con l'inchiesta che toccò il presidente storico Renzo Caponetti, fu accusato di una presunta truffa sui fondi destinate alle vittime di usure e distorsione e attualmente davanti al gruppo del tribunale insieme alla moglie. Da allora ci sono stati tentativi di riorganizzare la struttura di una delle associazioni antiracket più longeve in Sicilia, tra le prime ad essere stata costituita per opporsi alle imposizioni dettate dai clan. Con l'inchiesta Caponetti si dimise, la guida passò per un breve periodo all'imprenditore Domenico Lorefice, di recente drammaticamente deceduto a causa di un incidente stradale e poi venne eletto Alfonso Peritore. Proprio in quest'ultima fase ci fu la decisione prefettizia di cancellare definitivamente l'associazione antiracket, una conclusione arrivata a seguito anche di note del commissariato di polizia dell'allora presidente Peritore di una valutazione condotta al coordinamento provinciale al quale prendono parte le forze dell'ordine. Venne confermato secondo questa disamina un quadro di sostanziale conflittualità interna che ha di fatto indotto la prefettura ad emettere l'atto poi impugnato nel quale si evidenzia che l'associazione non offrisse sufficienti garanzie di democraticità dimostrando palesi difficoltà, così dicono i giudici del TAR, nella gestione degli organi associativi, determinando altresì una sostanziale impossibilità di perseguire il proprio scopo sociale, ovvero prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva in ordine a cui, peraltro, gli stessi vertici delle forze dell'ordine, sostengono ancora i giudici del TAR, avevano rimarcato l'assenza di risultati negli ultimi quattro anni. La sospensione dall'albo era stata decisa quasi all'indomani dell'inchiesta Caponetti, che portò al sequestro di somme, poi revocato in una fase di riesame con pronuncia ribadita in Cassazione. Successivamente, durante la presidenza aperitore, ci fu un ripristino dell'iscrizione all'albo provinciale, definitivamente venuta meno all'inizio dello scorso anno, sulla base del contenuto di note e accertamenti condotti. Tra i vari aspetti sollevati, fin dall'inizio, la tendenza del presidente storico Caponetti a mantenere un certo controllo, seppur indiretto, sugli equilibri interni all'associazione, che venne dichiarata decaduta dalla Federazione Nazionale. L'attuale vertice dell'antiracket locale, Salvino Legname, ha più volte sostenuto che le attività a supporto di chi subisce le vessazioni criminali non si sono mai fermate. Lo stesso Legname, insieme ad altri soci, chiese ottenne un incontro in prefettura per cercare di chiarire ogni aspetto e delineare la volontà di procedere lungo il solco della legalità praticata. Secondo i giudici del Tar, però, non ci sono i presupposti per annullare il provvedimento che esclude l'antiracket locale dall'albo prefettizio.